Gli uomini non sanno ascoltare. Spesso si sente pronunciare questa frase dalle donne che accusano gli uomini di essere disattenti. Ecco quali sono i motivi. Le donne tendono ad utilizzare un linguaggio guidato dalle emozioni e questo a volte risulta indecifrabile per gli uomini. Le conversazioni guidate maggiormente dalle emozioni hanno un carico pesante difficile da sopportare e ciò crea insicurezza nell'uomo. Le donne sanno essere mogli, madri, figlie e lavoratrici e spesso cercano un riconoscimento per quello che fanno. Gli uomini al contrario dopo una giornata pesante tendono a rilassare la mente e affrontare argomenti importanti può causare incomprensioni. Per gli uomini discutere dei problemi difficili da risolvere non viene percepito come una cosa utile. A differenza delle donne gli uomini non sono multitasking e di fronte alle richieste di una donna questo può essere motivo di incomprensione. Le donne sono più sensibili ai sentimenti. La paura dell'amore e di altre emozioni può creare problemi di comunicazione tra i due sessi. Se una donna chiede l'opinione di un uomo durante una conversazione è probabile che lei lo interrompa nel caso non fosse d'accordo con lui. Questo comportamento genera incomprensioni. Le donne sono in grado di mantenere una conversazione anche da ambienti differenti, mentre gli uomini prediligono una comunicazione face to face. Alla maggior parte degli uomini non piacciono i pettegolezzi riguardo colleghi o amici. Spesso le donne durante una conversazione tendono a toccare più argomenti, anche diversi tra loro. Questo rischia di far perdere il filo del discorso agli uomini, che prediligono una comunicazione più lineare in cui si tratta un argomento per volta.